Vediamo come fa il nostro corpo a produrre l'energia necessaria a mandarlo avanti. My Energy. Sapete qual è il componente principale di sta roba qua? Amminoacidi. Ci sono anche gli enzimi ma il principale è l'amminoacido. Sapete che cosa sono gli amminoacidi? Sono i componenti delle proteine. Tu butti dentro nel tuo stomaco proteine che sono nient'altro che amminoacidi incatenati l'uno all'altro. Mai ramificati, lo sapete? Sono sempre dritti. Perché le proteine vengono prodotte dal DNA che è un filamento. Quindi traduci un pezzo di DNA diventa un pezzo di proteina. Tutta lineare. Quindi questa è una proteina di mucca, mai mangiato da una bistecca, arriva dentro il tuo corpo, un enzima spacca questo legame, un altro enzima diverso spacca questo legame. Ce ne voglio uno diverso per ogni legame. Un altro enzimo magari ne spacca due. Però per spaccare una proteina di mucca potrebbero volerci anche 100 enzimi. Tanta roba. Dopodiché quando tu hai prodotto questi amminoacidi in forma libera si dice, cioè non più legati, non sono proteine, sono amminoacidi, scendono, vanno all'intestino e là nell'intestino passano nel sangue. E quando vanno nel sangue arrivano le cellule. Le cellule per cosa li usano? Per tutto. Produrre l'energia, produrre i tessuti, togliere un inquinante, una sostanza tossica, toglierla dall'organismo, costa un mare di reazioni chimiche. Fanno tutto il uso di amminoacidi per costruire gli enzimi detossificanti. Siamo bravissimi a detossificarci. Se ci mancano gli enzimi e quindi gli amminoacidi, no. Perché ci piacciono così tanto gli amminoacidi? Beh, intanto perché servono quasi dappertutto. Ma c'è un altro dato molto brutto, che gli amminoacidi sono pochi in quasi tutti. Qual è il problema? Che le persone per produrre tutti questi enzimi, di cosa hanno bisogno? Di amminoacidi. Hanno bisogno di grandi quantità di amminoacidi per produrre gli enzimi, per spaccare le proteine e produrre altri amminoacidi. Ma se sono carenti di amminoacidi, produco pochi enzimi digestivi, quindi ho scarsa capacità di produrre, di digerire le proteine, ho pochi amminoacidi e il gatto si mangia la coda. È un circolo vizioso. Poca digestione delle proteine, pochi amminoacidi, poca produzione di enzimi digestivi, poca capacità di spaccare e questo è un circolo vizioso in cui sono finite tantissime persone. E allora come facciamo? Lo interrompiamo in due modi. Gli diamo degli enzimi vegetali digestivi, gli diamo una manina, una sostanza esterna, aiutiamo a spaccare alcuni di questi legami con gli enzimi introdotti dal fuori. In più gli diamo gli amminoacidi in forma libera, sono già spezzati, non fanno neanche tappa nello stomaco, vanno dritti nell'intestino e quindi nel sangue. Ci vogliono minuti perché passino nel sangue, minuti, poco. Dentro così vanno. Quindi interrompi questo circolo vizioso che è il paradosso degli amminoacidi, l'ho chiamato io, perché non hai amminoacidi quindi non riesci ad avere altri amminoacidi. La cosa bella è che dopo, quando la gente mi dice ma io prendo gli amminoacidi per fare muscolo, per aumentare di massa muscolare o per motivi sportivi, ma mi dicono ma io devo prendere 30 grammi di amminoacidi se voglio costruirmi 30 grammi di muscoli ogni giorno, capito? Fanno quel ragionamento lì. Devi darmi tanta roba che fanno i culturisti che vanno solo sulla massa. Si incazzano tutti perché gli diamo troppa poca roba ai culturisti. Sono abituati a prendere delle manciate di roba. Ma no, il problema non è la quantità. Certo la quantità ha la sua valenza, ma a me basta migliorare questo funzionamento qui. Perché il tizio mangia già carne, mangia già pesce, mangia già vegetali con delle proteine. Il problema è che non riusciva a tirar fuori gli amminoacidi dal cibo. Io gli butto dentro un sacco di amminoacidi, la sua digestione comincia a produrre amminoacidi e questo è il circolo virtuoso. Non è che ce ne vogliono tanti, però se vuoi che funzionino gli amminoacidi e vengono assimilati, di cosa ho bisogno di mettere dentro? Cofattori! E gli enzimi che danno una mano alla digestione. Il trucco è stato in quella cosa lì. Ecco perché aiuta a combattere la stanchezza, migliora il metabolismo cellulare. Avete presente quello schema di prima del metabolismo? Dov'è che gli amminoacidi aiutano? Non so se ce n'è uno dove non aiutano, ma credo su tutte quelle lineette lì ci vuole un enzima e un enzima è sicuramente una proteina con qualcosa di attaccato. Un enzima è sempre una proteina con qualcosa di attaccato, potrebbe essere un minerale o un altro composto, chiaro, ma c'è sempre una proteina e la proteina di che cos'è? Fatta di amminoacidi, solo che è montata da noi, non viene dall'esterno. Tra parentesi, una volta stavo seguendo degli sportivi, c'era una persona molto ossidata, dall'analisi veniva fuori che era parecchio ossidata e Dimitris mi ha detto a questa persona qua potresti tranquillamente dare solo amminoacidi perché tanto, siccome era un corridore, uno che comunque stressa il corpo ma nel senso buono, è fatto per muoversi il corpo, potresti dargli solo amminoacidi così ci arrangia il corpo a deossidarsi. Capito che hanno anche una funzione antiossidante questa cosa qua, per dire come si aiutano l'uno con l'altra le sostanze e le categorie. grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.